A CLESSIDRA Mi erano sconosciute Perché Shao Kahn me le aveva negate Conoscevo il mio popolo Non meglio di un Tarkat È la dannata verità A parte il sangue Non ho nulla di Edenia Io appartengo al regno esterno Di più Sono il Kahn del regno esterno Userò quindi le antiche conoscenze di Edenia Per migliorarmi come sovrana E attraverso di esse Lotterò per il bene di tutti i popoli del regno esterno Edenia inclusa Per migliorarmi come sovrana Per migliorarmi come sovrana